Ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video credo che sia il primo video che voi vedrete dalla nuova postazione perché nella mia solita praticamente non prendeva più la linea internet ho dovuto creare questa postazione di fortuna vorrei cogliere l'occasione del video prima di passare all'argomento vero e proprio per ringraziare per i tanti mi piace, per i tanti commenti e ultimo ma non per importanza soprattutto per le due donazioni ho corse alla mia causa, alla mia raccolta fondi grazie mille qualcuno mi ha fatto notare che il link alla mia raccolta fondi non sempre funziona vi invito perciò se siete interessati a capire meglio di cosa si tratti ad aprire il video della raccolta fondi dove invece il link alle donazioni funziona detto questo passiamo all'argomento vero e proprio del video che è un nuovo video tag in quanto vorrei fare video nuovi ma non so ancora su cosa quindi intervalliamo con un video tag che si intitola i sapori del cibo creato se non erro da lucia selmi e a casa di sara se ho letto bene aspettate vi lascerò i link ai due canali menzionati e alla fine taggerò anche qualcuno quindi guardate il video fino alla fine qual è il tuo cibo preferito? diciamo che come ho detto in altri video faccio prima dire quello che non mi piace che è poi la risposta alla seconda domanda quindi direi che possiamo passare direttamente alla seconda che è appunto qual è il cibo che non ti piace i cibi che non mi piacciono sono finocchio gratinato al forno barbabietola e basta praticamente preferisci la lasagna o la pasta al forno? pasta al forno tutta la vita non vogliate bene gli amanti della lasagna la pasta al forno non se batte carne o pesce? mi piace un po' di più la carne però per cambiare per cambiare ci sta anche il pesce che comunque mi piace che rapporto hai con il cibo? allora per quanto riguarda le quantità fortunatamente fino a questo momento non ho problemi in compenso tengo molto alla qualità non riesco ad andare d'accordo con chi cucina di fretta per mangiare giusto per mangiare per me il cibo è quasi una mezza religione e quindi ho bisogno di cambiare spesso non mi interessano cose elaborate che costano 200 euro penso che con pochi soldi chi ha la possibilità dovrebbe cambiare spesso e qui ahimè non succede cosa pensi del junk food? credo che per junk food si intenda tipo da mcdonald's, burger king, cose così è chiaro che non può essere una cosa di tutti i giorni se ci teniamo un po' alla pellaccia però ogni tanto ci sta secondo te quanto è importante parlare di cibo a scuola? secondo me è molto importante perché i messaggi positivi a mio parere devono partire da piccoli quindi tra le altre cose è bene parlare anche di cibo quale cibo odiavi da piccolo? allora da piccolo odiavo le zucchine e i carciofi adesso mangio entrambe le cose cosa pensi del bio? cioè biologico non penso nulla perché non so nulla dunque non mi esprimo mi rendo conto che questo tag è un po' povero da parte mia però non poteva esistere che un mangione non girasse il tag i sapori del cibo che cosa faresti se tua figlia decidesse che è diventata vegetariana? casomai di diventare vegetariana scusatemi comunque se mia figlia che non avrò perché non voglio assolutamente figli decidesse di diventare vegetariana le direi va bene però siccome il babbo non è vegetariano è giusto che tu impari a cucinare da sola perché come non è giusto che tu non mangi delle cose che per etica per salute per quello che vuoi non vuoi mangiare altrettanto nello stesso tempo non è giusto che il babbo cambi la sua dieta per te che sei grande e puoi far da sola ah siamo già all'ultima opzione che poi non è una domanda tagga chi vuoi io voglio taggare anzitutto i sentieri del gusto quindi Lucia che come dice il canale stesso ha incentrato il proprio canale sul cibo quindi Lucia questo tag deve essere tuo e poi voglio taggare anche un altro canale di ricette che mi segue praticamente sempre non si è perso nemmeno i video che non ho mai spammato che è ovviamente il canale di ricette e risate in pochi minuti quindi cara Zia Mira devi fare questo tag ti ho taggata scegli tu ti faccio scegliere se vuoi farlo da sola se vuoi invitare la zia Clara se vuoi far partecipare il camera man 1 il camera man 2 chi vuoi il video finisce qui ragazzi vi ricordo se non siete iscritti di iscrivervi al mio canale di attivare la campanella per non perdere i prossimi video generalmente non lo chiedo ma questa volta vi dico anche condividete il video perché youtube mi sta dando un calo di visualizzazioni abbastanza ingente e se ne avete voglia ovviamente ci vediamo al prossimo ciao